Allora io sono Giorgio Magrini, sono direttore del Galvali del Canavese e capofila del progetto Explore Lab. Il progetto Explore Lab si inserisce nel nostro Peter e si occupa di turismo sui generi, turismo sostenibile, natura e cultura. Il nostro territorio è una forte scommessa perché è un territorio che non è abituato a lavorare con l'innovazione, a lavorare insieme agli altri. Quindi ci aspettiamo da questo progetto di uno scossone sulla parte economica e turistica del nostro territorio perché si abitua a lavorare insieme in modo innovativo. Avete già lavorato con delle metodologie Living Lab? No, noi non abbiamo ancora lavorato con metodologie Living Lab per cui questo è un esperimento. Però i Galvali lavorano con un metodo bottom-up che di fatto è un metodo dal basso dove viene costruito un progetto dal basso per poi diventare un progetto presentato in regione. Cancello questa parte, la rifaccio. No, la rifacciamo, sì. Allora noi Gal non abbiamo mai lavorato con un metodo di General Living Lab. Lavoriamo con un sistema bottom-up che vuol dire co-costruire insieme al territorio dal basso un progetto, candidarlo in regione su finanziamenti leader e eventualmente vincerlo. I nostri Gal, i Gal presenti nel progetto esplorale, cioè Galval di Lanza e Gal cannavesi, sono classificati primo e nel secondo posto dei tutti i progetti di sviluppo locale presentati dai Gal piemontesi.